Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo passate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto SBO- Bella vecchi trapani, bentornati qui sul canale GRANANAS Stiamo trovando lì con un altro pack opening, siccome l'ultimo è andato male Ora partiamo su- A bomba, stecca Dobbiamo subito- Ci si prova Bah, schifo Salai Vaffan, un po' meno salai Beh, fai a prendere qualcosa da me Eh no, due a botta, giro, vai, Sanchez, che mazza, che merda, ti è Vai, 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 vai D'accordo? Questo me lo sento, questo me lo sento San Baba, Baba Baba, San Baba San Baba Lukaku Baba, San Baba Grazie Ma puoi giocare pure a me a lei, che bello Allora, si apre il Toz Che palle oh Sampo Amo trovata la torretta Troveremo qualcosa No, manco per cazzo Oh bravo, dai, non è questo Abbiamo trovato... Ciao che ciò fuè No, aspetta Ciao Ciao che ciò fuè Ciao che ciò fuè Vai così Vai così Tanto non c'è mai in cazzo Mai zero Ma zero poco così Così cazzo Per l'attimo ho visto il leaf Il nero del leaf Better col sal Pall'altro ma come in questa battuta Da questa battuta, si Da qui faccia piena fanno sezzo Ma che sta per garden sabato, lo sai? Tutti questi fanno tutto questo, tutto questo Rosicchi perché non trovo nessuno Rosicchi 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 perché non trovo nessuno Ma te Rosicchi Dai 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 Mati L'apro un buchetto per l'occhio Così non saprano più i pacchetti Così devi finire E troviamo sempre Nalnets, Bistroff e cazzivari Non troviamo mai un Toz Oh regà ma i Toz che pino hanno fatto Ma per me è finto sto pacchetto Toz quindi Si vero Dai, dacci un Toz Mai navi da proprio Daccelo un Toz Vai così, vediamo Forse qualcosa lo troviamo Incredibile Fantastichi Pokemon Vediamo Forse qualcosa lo troviamo Ho fatto pure la rima come Saviano Tutti quanti Ho fatto io la rima Eh Come Saviano Porta in alto la mano con il tuo capitano Mamma mia che rima che t'ho attirato fuori Adesso stai muto e esci fuori Ciao Stai delirando Scusatelo eh Bello bello E intanto non si trova un gazz Bello Devo fare come AshKetchum Vai di prenderà tutti Ronaldinho, lo troveranno tutti Ronaldinho Moll! Mo però, eh, Marchetti bello, che è il fratello di... Attenzione, fantastico, incredibile, check Coluccini Ah però, avevo trovato uno di coloro 85 Lui è il fratello illegittimo di Cullit Bam, Andanovic, tutti i portieri I Turbe, Reina Tutti da Serie A, visto? Vai In sua Ma comunque non è possibile che non si trova più un tozzo Se non ha più un cazzo, è diverso Cioè, i rari, questi sarebbero i rari Lo stemma dell'Inter Che cazzo ce faccio? La maglietta del Chievo Verona, scusa No, lo stemma dell'Inter è raro, è raro Mamma mia, non trovo nessuno secondo me Che palle Lo troviamo, non lo troviamo Che palle Torette, eh, i piatti Lavali, lavali, che te fa piacere Incredibile, il pochino Basta questo Ancora più di merda, so Vediamo Immuciniamo qualcosa No, povoligno Ancora niente tozza Incredibile, siamo a secco Siamo a secco Cain 92.000 Ci abbiamo 4 o 5 pacchetti più o meno per trovarli E noi ce la dobbiamo fare perché non è una domanda È un ordine Fernandao Non c'è niente Come sempre Tanto per cambiare Calabac Abbiamo trovato due moreni Pjanic Ronaldinho Che pop-up dei giocatori Ci sarà? Ci sarà? Ma è nulla che vuoi chiedere, tanto non c'è Ramsey Ecco perché si trova un cazzo Vabbè raga, non abbiamo trovato assolutamente un cazzo E niente Diciamo che il culo di pack opening è finito E hanno abbassato i rate raga Sono l'unica spiegazione Perché con un milione spacchettato fra due pack opening Non abbiamo trovato manco un toz È incredibile Ma neanche un if Dai Ma che cazzo stanno a fare? Sì no raga, è l'unico che abbiamo trovato Devevo per roll è 85 check C'è C'è il massimo che abbiamo trovato Check raga Quindi vabbè Proveremo con un prossimo pack opening In futuro comunque Lasciate 5.000 like per supportarci E per dirci se volete altri pack opening Magari spizzeremo più spesso Se ci stanno Qui sotto diteci se voi siete più informati Se hanno fissato Cioè se hanno abbassato i rate delle figurine Perché secondo me Se ne trovano di meno Ragazzi è tutto Tutti i link in descrizione Bella